Salve gente, benvenuti in questo nuovo video dove andiamo ad analizzare il personaggio di Arlecchino. Cominciamo con la sua descrizione. L'abilità elementare di Arlecchino infligge danni da Pyro ai nemici vicini, applicando a loro delle direttive del debito di sangue. Questo sarà un pochino il suo effetto di stato per permettersi di fare più danno, per un certo periodo di tempo. Dopo aver usato l'attacco caricato e il tribù di elementare, Arlecchino assorbe le direttive circostanti e ottiene un legame vitale, ovvero il Bond of Life in inglese. Quando il valore del legame vitale supera una data percentuale dei suoi PS massimi, Arlecchino entra nello stato di Maschera della Morte Rossa, nel corso del quale i suoi attacchi normali infliggono danno da Pyro e consumano parte del legame vitale, per infliggere danni aumentati in base al legame vitale stesso e il suo attacco. Ok, già, qua ti dicono che scala su attacco. Il tribù di elementare infligge danni da Pyro ad aria, azzerando il tempo di ricarica residuo dell'abilità elementare e ripristinando i PS di Arlecchino. Ok, ora te la farò molto semplice perché non ci vuole che sai che cosa capire o come funziona il personaggio. Guarda queste Idol Animation veramente molto particolari con il glitch del personaggio. Oh, lo voglio dire, a livello di design penso che sia il personaggio più interessante o quantomeno più particolare che abbiano mai pubblicato su Kenshin Impact, quindi assolutamente nulla da dire su questo. Guarda anche questa di Idol Animation, che carina. Molto, molto bella. Ti faccio vedere il resto delle animazioni. Questi sono i suoi attacchi normali. Vedi? Può fare fino a sei attacchi. Bene. Questa è la sua element skill. Ok, facci caso che la sua lancia in realtà è una falce. Per quel motivo? Perché la sta utilizzando lei, specifichiamo, eh. Se vai a pullare quest'arma diventa una falce solamente su di lei e su altri personaggi, invece no. Si vede solamente una luce che ricorda appunto la falce. Ora, ti faccio vedere l'attacco caricato. Ecco qua, vedi? In base a quanto tieni premuto il suo attacco caricato, lei può fare una cosina aggiuntiva. Perché, vedi? Se lo tieni premuto, lei tira fuori questa ala e può svolazzare un pochino in giro. Ora, se pensi di utilizzare questa robina qua per fare cose strane, purtroppo no. Cioè, puoi letteralmente svolazzare a mezz'aria, ma non è una roba tipo Scaramouche, purtroppo. A parte questo, diciamo un pochino di più per quanto riguarda questo personaggio, perché ti faccio vedere com'è messa all'interno di questa traia. Allora, lei qua ha 105 di Elemental Mastery, 77 di Crit Rates, 120 di Crit Damage, 135 di Energy Recharge, 46% di bonus danno da Pyro e come vedi qua, questa robina è del 12,5% di resistenza aumentata a tutti gli altri tipi di danni. Questo va a scalare tramite un suo talento passivo, praticamente grazie ai suoi punti di attacco. Questa è la sua arma Forma della Luna Cremisi, che ovviamente puoi trovare nel banner. Questa arma ti va a dare 590, ma insomma sarà anche un pochino di più, sarà 674 a livello massimo, insomma, di attacco base. Mentre invece il tasso da Crit, insomma, come vedi, è la sua statistica secondaria. Questo che cosa ti va a dare? Che quando un attacco caricato colpisce un avversario, il personaggio che equipaggia l'arma ottiene un legame vitale pari a un 25% dei PS massimi, quindi ti dà più Bond of Life. Questo effetto può attivarsi una sola volta ogni 14 secondi, in più quando il personaggio possiede un legame vitale ottiene un 12% di bonus danni. Se il valore del legame vitale è maggiore o uguale a un 30% dei PS massimi, il bonus danno aumenta di un ulteriore 24%. Questa è refinement 1. Allora, che dire su quest'arma? È ovviamente la sua best in slot, assolutamente sì. Quindi ti straconsiglio di andarla a prendere. Ora, se vai a vedere all'interno del gioco, ci sono ovviamente delle alternative, perché per esempio potresti utilizzare la White Tassel, insomma, il pennacchio bianco. Potresti utilizzare la Deathmatch, la Premolda Jailwing Spear, potresti utilizzare anche lo Staff of Home, o diverse altre lance, se le hai, tra 4 stelle e 5 stelle. Cos'è che va a cambiare tra queste lance? È che tu puoi utilizzare un'arma un pochino generica sul personaggio per poter fare più danno, ok? Per esempio il pennacchio bianco, il White Tassel, si utilizza per il semplice motivo che ti aumenta il danno d'attacco normale, insomma, caricato e tutto il resto. Quindi quella è una cosina buona. Poi gli manca tutto il resto, insomma, è un'arma 3 stelle, mentre invece se utilizzi un'arma come la Deathmatch, hai un danno aumentato se sei contro un singolo nemico e tutto il resto. E le altre 5 stelle sono ottime perché sono quelle che si definiscono in inglese delle stats stick. Che cosa significa? Che hanno delle ottime statistiche e un talento abbastanza generico che quindi può funzionare. Ergo, ti cambia così tanto la vita non avere quest'arma? Diciamo che dipende. Cioè, se vuoi massimizzare la signorina Arlecchino, sicuramente è straconsigliata, però diciamo che non è una cosina obbligatoria. Insomma, se non hai tutte le pull di questo mondo, va bene anche adattarsi. Mentre invece, per quanto riguarda il manufatto, qui abbiamo Scheggia di Estroarmonico. Questo è un set di 4 pezzi che ti va a dare attacco più 18% e il 4 pezzi ti va a dire che quando il valore delle game vitale aumenta o diminuisce, il personaggio infligge danni aumentati di un 18% per 6 secondi. Massimo 3 accumuli, insomma 3 stack. Ergo, questo sarà il nuovo meta, probabilmente, per Arlecchino e forse anche Clorend e Cigwin, in base a quelli che saranno i loro kit, però essenzialmente è il set consigliato perché appunto lei gioca tantissimo su questa meccanica delle game vitale, ergo mettile questo. Però se non lo hai e vuoi fare già qualcosina con il personaggio in questi primi giorni, appunto, che magari lo hai trovato o il personaggio è stato reso disponibile, anche un 4 pezzi del gladiator può funzionare. Non è la soluzione migliore del mondo, però funziona, te lo posso assicurare. Per quanto riguarda le statistiche, è molto semplice. Lei ha bisogno di crit rate, crit damage, energy recharge, non più di tanto, soprattutto se fai team, diciamo, monopyro o qualcosina del genere, ma tra poco ne parliamo. Però diciamo che in linea generale le statistiche principali che servono nel Arlecchino sono attacco percentuale, pyro damage bonus e crit rate barra crit damage. Ma, insomma, se hai la sua arma crit damage è quello un pochino più consigliato. Visto qualcuno fare delle prove per quanto riguarda le elemental mastery, non credo che sia la soluzione migliore perché lei scala suo attacco, quindi hai bisogno di questa statistica, a meno che non trovi praticamente degli artefatti che sono così tanto messi bene a livello di statistiche secondarie per quanto riguarda l'attacco percentuale, però anche lì non so se ne varrà da pena perché dovresti fare dei team che fanno appunto delle reazioni. Quindi il monopyro non dovrebbe essere la soluzione migliore. Ergo l'attacco percentuale, diciamo che la statistica, a 360 gradi migliore. Per quanto riguarda invece le costellazioni, allora qua il discorso penso che sia abbastanza semplice. La sua C1 ti permette di avere una resistenza all'interruzione aumentata, poi ti va ad aumentare anche il valore dei maschere della volta di un interiore 100%, quindi anche questo è buono. La sua C2 ti permette di applicare queste direttive del debito di sangue già a livello numero 2, insomma che è quello un pochino più alto. E questo ti permette anche di fare più danno da pyro, aumenta la resistenza fisica, insomma tutti gli altri elementi, bla bla bla, però diciamo che appunto C1 resistenza all'interruzione, C2 hai più danno, quindi già qui ti puoi farmare a livello appunto di costellazioni o investimento, e poi le altre sono abbastanza semplici. La C3 aumenta il livello dell'attacco normale, quindi anche questo, diciamo che è un pochino consigliata, ma insomma consigliare la C3 è un pochino particolare. La sua C4 ti permette di ripristinare l'energia elementale, anche il tempo di ricarica si riduce di 2, quindi anche questo è leggermente utility. Mentre invece la sua C5 aumenta il livello di ascesa della luna cruenta, va bene che dovrebbe essere la sua elemental burst, giusto per. Mentre invece la sua C6 essenzialmente ti vado a aumentare il crit rate, crit damage, insomma tutte queste robine qua, un ulteriore danno aumentato scalato sull'attacco di Arlecchino, quindi insomma la C6 lo rende ancora di più un personaggio estremamente forte, ma già lo è appunto a C0. Ora te la faccio vedere in azione con questo team, ti faccio vedere anche la rotazione, perché credo che sia abbastanza importante per capire. Cominciamo con lei, poi cambiamo, utilizziamo un pochino tutti i support, e come vedi adesso abbiamo queste direttive già applicate sui nemici, e il Bond of Life è già messo abbastanza bene. Ora facciamo una roba così, Ecco già in quel momento potevamo utilizzare la Suo attacco caricato. Ora vedi abbiamo già raggiunto un buon numero secondo me di Bond of Life, ma ovviamente che cosa succede che magari non si capisce? Quando tu utilizzi la sua elemental skill vai ad applicare questa direttiva, ma se gli altri personaggi, per fare appunto support, support, dps, insomma buffer, tutte queste cose qua, ci ritorni facendo il suo attacco caricato, e quindi vai avanti in questo modo. Detto questo, la cosina particolare che può accadere se fai una rotazione di questo tipo, è che essenzialmente il personaggio rimane con il Bond of Life applicato su di esso. Cioè, questo che cosa significa? Significa che se appunto non fai la sua elemental burst, e fai di nuovo la sua elemental skill, una volta che hai fatto abbastanza attacchi normali per ridurre il cooldown della sua elemental skill, puoi riapplicare appunto il Bond of Life su Arlecchine, quindi lei può fare ancora, insomma, più danni e tutto il resto. Solo che in questo caso devi assicurarti di non subire troppi danni, di magari avere un minimo di shielder, quindi qualcosa del genere, ergo devi fare attenzione, perché non è così semplice fare più volte la sua elemental skill per fare più danni, poi ovviamente dipende pure dal nemico che cosa sta facendo e tutto il resto. Detto questo, parliamo un pochino anche dei vari team che puoi utilizzare con Arlecchino, perché lei essenzialmente è un DPS Pyro, no? Quindi un DPS Pyro lo puoi mettere con un PG Hydro, un PG Krio, quindi potresti utilizzare Fiorina, potresti utilizzare la signorina Yelan, potresti utilizzare anche Rosaria, oppure puoi utilizzare una Dayona, se vuoi un po' di scudo più elemental master o qualcosa del genere, puoi utilizzare anche Kaeya, oppure anche fare cose in Overload, quindi essenzialmente utilizzare l'Electro con Beidou, con altri personaggi, la signorina Fischl, magari Chevro se hai questo personaggio, quindi diciamo è un PG che si adatta a diversi team, se vuoi fare appunto reazioni elementali. Ora però bisogna anche specificare che se fai team di questo tipo, qual è il miglior personaggio che puoi legare a lei? E ovviamente Bennett, perché ti va a baffare appunto l'attacco del personaggio. Quindi diciamo che Arlecchino e Benny vanno quasi sempre di pari passo. Poi se vuoi fare un team monopyro, quindi ci metti Chevro, Benny, Arlecchino, e poi magari anche un altro personaggio per fare una minima reazione o buffer, lo puoi fare. Certo è che in quel caso non ti serve buildare Arlecchino con Elemental Mastery. A parte questo, i team sono classici, insomma cose che puoi già vedere con Utao, che puoi già vedere magari anche con la signora Yemiah o Diluc. E giusto per rispondere a diverse persone che magari mi chiederanno, ma ha senso pullare questo personaggio quando abbiamo già in gioco altri DPS Pyro, come la signorina Utao, Diluc, Yemiah, Gaming e tutto il resto. Questo dipende dalle preferenze delle persone perché io sono dell'idea che avere dei personaggi diversi all'interno del gioco che fanno, non ti dico più cose, ma anche le stesse cose sia un pochino più divertente, o quantomeno hai un'esperienza di gioco nuova, no? Cioè utilizzare sempre Utao che fa caricato, salto, caricato, salto, oppure Diluc che fa skill attacco, skill attacco, skill attacco, poi burst diventa un pochino monotono. Quindi avere un personaggio che ti permette di fare danno ad aria, che ha degli ottimi moltiplicatori, che ha questa meccanica nuova del Bond of Life che magari potrei supportare con personaggi che arriveranno nel prossimo futuro, secondo me è una cosina interessante. Poi ovviamente Genshin dipende da come lo vivi. A me piace pullare personaggi, a me piace anche i collezionali, come puoi vedere anche da quelli che ho su schermo. Non sono una persona che si interessa così tanto a mimmaxare qualsiasi cosa, però ecco, avere dei personaggi nuovi ogni due o tre patch non è male. Arne Kino mi interessa molto, perché dal punto di vista estetico è uno dei personaggi che mi aggrada di più. A parte questo, però, insomma, il personaggio ve lo consiglio, direi di sì. Vedete voi, gente, se volete pullarlo a tutti gli effetti, però credo che la signorina sia un ottimo personaggio pyro, un ottimo DPS, forse uno dei più forti che ci sono in gioco. Non ho potuto farti vedere tutti i testing della vita, perché il personaggio è appena uscito, ancora devo pullarlo, se riuscirò a prenderlo. Però insomma, queste erano bene o male le mie opinioni, gente, per quanto riguarda le Kino. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Detto questo, stay tuned sul canale YouTube per altri video e vi ricordo che potete iscrivervi o abbonarvi al canale per supportare il mio lavoro qua su YouTube o anche su Twitch. e vi ricordo che ci sono